I campionati a squadre ci sono sostanzialmente due novità rispetto all'anno scorso. Ci sono sostanzialmente due novità rispetto all'anno scorso. Il primo è il campionato a squadre di Serie A. Per chi l'aveva già criticato l'anno scorso quello con la Formula 5 titolari, io dissi a tutti datemi un anno di tempo perché ho bisogno, per quello che avevamo in testa io, di andare in federazione e dire che per un anno si fa la formula nazionale perché noi siamo uno dei campionati d'eccellenza più grandi in Italia, tolta la Lombardia che ha molti più tesserati e quindi fa un campionato d'eccellenza con tante squadre. Come vi dicevo all'inizio, nelle altre regioni il campionato a squadre d'eccellenza a volte si risolve in una giornata in cui ci sono quattro squadre che fanno semifinale e finale e chi vince la mandano a campionati italiani. Cioè non c'è la stessa cultura che c'è in Toscana, la stessa tradizione che c'è in Toscana. Per cui noi avevamo la nostra formula che tutti gli anni cambiava in qualche aspetto ma che era fondamentalmente sempre basata su tre titolari. Poi invece il regolamento nazionale ne prevede cinque. Io in Commissione Tecnica mi sono sempre un po' lamentato di questa formula nazionale, loro mi hanno sempre detto se non la provi non mi può dire niente e io ho detto vabbè per un anno si prova. L'abbiamo provata con un'ottima risposta perché ci sono state 24 squadre l'anno scorso, si vedeva prima, 47 giocatori in più, tutto bello, però poi io ho raccolto dei feedback alla fine della stagione e non ho trovato nessuno che mi ha detto oh che bella formula si è fatta quest'anno. La Formula 5 è piaciuta veramente a pochi e io sono uno di quelli a cui è piaciuta di meno di quella che facevamo noi l'anno prima. Però ripeto, la Formula 5 ha avuto il pregio di portare diverse prime categorie a giocare il campionato di eccellenza che per me che come obiettivo fra gli altri o anche quelli di cercare per quanto possibile di elevare il livello dei giocatori sono dell'idea che questo sia stato un aspetto positivo. Però poi sono tornato in Commissione Tecnica e gli ho detto signori noi non la rifacciamo la Formula 5 perché non è piaciuta e io devo tutelare diverse centinaia di giocatori che fanno il campionato. Per cui quest'anno se leggete il regolamento nazionale c'è scritto che le regioni per motivi legate al territorio, alla tradizione, alle esigenze locali possono modificare la formula del campionato regionale purché quella nazionale si svolga per ora con la formula tradizionale che c'è. Questo è stato secondo me un ottimo risultato perché ora abbiamo la possibilità di fare il campionato d'eccellenza come pare a noi. E poi la squadra che vince mandarla lo stesso a fare i campionati italiani. Ripeto, non era tutto brutto del campionato a 5, questa cosa che molte prime hanno tentato di fare questo scalino secondo me è positiva. Per cui non siamo voluti tornare alla Formula 3 dell'anno scorso ma abbiamo cercato di trovare una via di mezzo che fosse un po' allettante. Un altro dei difetti che aveva la Formula 5 secondo me era che sì tante prime erano andate a fare il campionato di Serie A ma con la formula in cui c'erano tre singoli, una coppia e poi una staffetta se tu avevi due eccellenze in squadra tipicamente facevano i singoli le prime categorie facevano la coppia fra sé e poi facevano la staffetta per cui sì la prima categoria è andata nel campionato d'eccellenza ma una coppia con l'eccellenza della sua squadra non ce la faceva mai. Per cui questo portava poco alla crescita del giocatore per me ci dovevano essere un po' più coppie anche a costo di trovare una formula che le forzasse in qualche modo. Per cui diciamo così per tagliar corto quest'anno faremo una formula a quattro titolari c'è sempre la regola del massimo due eccellenze anche se abbiamo allargato un po' le maglie fino all'anno scorso sempre dal regolamento nazionale non potevi metterne tre a referto dovevano essere due anche se in squadra ce ne avevi tre o quattro non le potevi neanche schierare come riserve per sostituire altre eccellenze cosa che abbiamo superato. Hai tre eccellenze, due giocano, se poi una esce può entrare quell'altra cosa che allo spaccone l'anno scorso è costato un 5-0 a tavolino se vi ricordate bene perché si distrassero un attimo si gioca sempre su due biliardi, stessa quota di iscrizione questa è la formula. Allora, si torna a sei punti e quindi sarà di nuovo possibile il pareggio un singolo all'italiana a 100 punti, un singolo all'goreziana a 400 punti e lo fanno due giocatori dei quattro della formazione poi ci sono due coppie italiana a 120 e tutti i doppi a 800 sono gare un po' più lunghe dei singoli che farà il giocatore C e il giocatore D che ancora non hanno giocato ma che rifarà anche il giocatore A e il giocatore B che ha già fatto un singolo quindi si arriva alla staffetta che è l'ultima prova in cui ci saranno due giocatori che hanno fatto un singolo e una coppia e due giocatori che hanno fatto soltanto la coppia la staffetta finale la facciamo a 240 suddividendola in tre frazioni in cui i due che hanno fatto solo la coppia faranno le due prime frazioni 80 punti e 80 punti singolo e gli altri che hanno già giocato il singolo chiuderanno la frazione a coppia quindi la staffetta si chiude con la coppia finale sembra risgogolata ma qual è il senso di questa formula? è quella che se io ho tipicamente due eccellenze in squadra caso tipico delle squadre dell'anno scorso quell'eccellenza può fare il suo singolo come faceva finora farà anche la coppia con la prima categoria la prima categoria avrà il suo spazio sia di fare la coppia che di giocare la staffetta perché comunque la staffetta divisa in tre frazioni le prime due le faranno i due giocatori che non hanno fatto il singolo per cui arrivi alla parte finale in cui questi giocatori hanno comunque detto la loro e calcolate che la staffetta vale due punti per cui non è una partita da trascurare e poi diciamo che l'ultima frazione tipicamente potrebbe essere anche formata da due coppie formate da da quattro eccellenze per cui anche a livello di spettacolo fra virgolette si presuppone che che ci sia un un ottimo livello livello di gioco in questo modo diciamo le due ora io dico due eccellenze per fare l'esempio pratico ma diciamo i due giocatori più rappresentativi della squadra giocano un pochino di più degli altri non tantissimo perché poi con la distribuzione dei punteggi si vede che bene o male sulla staffetta hanno molto meno impatto per cui diciamo è abbastanza equilibrata lo stesso però in questo modo diciamo la prima categoria dovrebbe essere ancora più invogliata dell'anno scorso a far parte di una squadra d'eccellenza perché non ha più il ruolo marginale di fare la sua coppia con un altro del suo livello e magari le prime due frazioni della staffetta e tutto il resto se la giocano i giocatori più rappresentativi qui si gioca un po' di più perché nella Formula 4 si gioca un po' di più e ci sono 4 punti e abbiamo ripristinato il pareggio si pone il regolamento quello definitivo insomma quello esaustivo che pubblicheremo prima dell'inizio c'è anche un meccanismo per cui chi ha fatto cioè la posizione della staffetta i doppi è sufficiente che cioè si esatto chi ha fatto i due singoli fa la coppia quello è ovvio si 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 no 1 e 1 chi ha fatto il singolo fa anche una coppia ok te supponi che A e B siano due eccellenze C e D sono due prime le eccellenze fanno i singoli poi c'è la coppia incrociata però i due che hanno fatto i due singoli fanno il doppio insieme nella staffetta di modo che chi ha fatto solo il doppio nelle prime partite poi nella staffetta abbia il suo singolo a disposizione perché una frazione a 80 è quasi come il singolo cioè non è più la frazione a 50 dell'anno scorso per capirsi ok noi crediamo che sia una una formula in cui si gioca un po' di più e e ci sia un po' più spazio sia per le eccellenze che giocano di più ma anche per le per le prime categorie che finalmente con le eccellenze ci devono giocare per forza insomma il criterio che ci ha guidati è stato poi ovviamente le strategie delle squadre possano anche prevedere che le prime facciano singole quello ognuno poi però diciamo il criterio che ci ha un po' guidato è stato è stato questo no in serie A non c'è mai stata l'opzione sono sempre stato minimo due minimo due biliardi qui lo stesso mentre nei campionati di serie B C e D era facoltativo perché la formula era un po' più corta però diciamo che la scuola di casa decide per motivi legati lì di giocare anche su due biliardi quindi questa è la grande novità dei campionati a squadra per i campionati di serie B C e D non cambia niente se non una cosa importante l'anno scorso l'accesso al campionato italiano di prime seconde terze aspettava al vincitore della serie B del campionato di serie B ossia i due finalisti del campionato di serie B del Tirreno i due finalisti del campionato di serie B Fipop Tarsi si sono scontrati in un mini campionato regionale in cui semifinale e finale incrociati chi ha vinto ha avuto l'accesso al campionato italiano che si svolgerà il prossimo fine settimana 21-22 a Rò però qual è il punto è che noi abbiamo un campionato di serie B in cui su una formula a tre titolari possano giocare due prime categorie il campionato nazionale è una formula 5 in cui Massimo può avere una prima minimo deve avere una terza e il resto sono seconde per cui cosa succede che chi ha fatto la serie B col criterio di farla e vincerla a livello locale non era attrezzato tipicamente per poter andare poi a Rò con una formazione totalmente rivisitata tant'è che la squadra che ha vinto il campionato del Fipop Tarsi cioè del Becagli non si è proprio presentato alla fase regionale perché ci hanno detto serenamente noi non siamo stati in grado di mettere in piedi una squadra che potesse fare quella formula per cui ci siamo un attimo interrogati su che senso ha mandare una squadra a campionati italiani che è totalmente diversa da quella che ha vinto in regione questo problema non è che l'abbiamo superato quest'anno l'abbiamo più o meno recepito ma visto che per noi è sempre più importante il campionato a 200 squadre che si fa a regione della finale nazionale che è una partita abbiamo continuato a fare la formula che ci interessava fare in regione non è che ci siamo messi a introdurre il campionato a 5 titolari anche qua perché non aveva molto senso quella è una formula che fanno nel resto dell'Italia perché fanno un campionato solo cioè come come ho detto prima non è che nelle altre regioni hanno 300 squadre non ce l'hanno per cui fanno un campionato di prima, seconda e terza con quella regola lì e chi può fa anche il campionato d'eccellenza noi invece abbiamo 200 squadre in serie C 200 in serie B bisogna farlo in un altro modo però abbiamo introdotto una novità che anziché prendere le prime due della serie B del Frippop Tarts e del Tirreno per fargli fare uno spareggio prenderemo chi vince la serie B e chi vince la serie C nei due comitati e poi si incroceranno nelle semifinali e finale di un campionato regionale e chi vince va a campionati italiani questo perché? perché il campionato di serie C è previsto fatto da tutte seconde quindi chi ha tutte seconde deve inserire una prima e una terza ma la terza potrebbe già anche averla se ci pensi perché ci sono tante squadre in serie C che hanno anche qualche terza cioè fa meno fatica una squadra di serie C di una di serie B a costruire la squadra per andare al campionato italiano per cui abbiamo detto che faremo le finali di spareggi con i vincitori di serie B e serie C del Tirreno e Frippop Tarts le stesse quattro squadre faranno le semifinali incrociate cioè chi vince la serie B da una parte gioca con chi ha vinto la serie C dall'altra e così via e questo sarà una piccola modifica perché siamo convinti che con questo criterio si possa ottenere delle squadre Certo sì come quest'anno quest'anno chi ha vinto quel campionato ha fatto la forma tant'è per questo il Becagli non è venuto perché non aveva proprio la formazione chiaramente le squadre possono essere riviste attingendo tesserati del proprio circolo perché se la squadra di serie C manca la prima la può acquisire ovviamente in un secondo momento e così via ok e questa sarà la novità no vabbè questo questo no no ma questo è un problema è un problema che ne sono di